taglia guarda che lavoro che ha fatto il mio amico fantastico ci ha pulito tutto questo è il bucho allora sono lì quello che è tutto come vuoi questo come vuoi questo ma su com'è? Sì, devo tornare indietro. Occhio, non stare di là perché stanno facendo tornare tutti indietro, io mi sono girato qua. Sì, perché nessuno ha le catene e neanche ha messo un cartello giù che la strada è inaccessibile. È impossibile arrivare. Io già faccio fatica avendo le S-Drive. Secondo me dovevano chiudere giù e mettere il cartello con scritto che la strada è inaccessibile, così almeno la gente non sale. Io sono venuto per fare un weekend, sapevo che ha nevicato ma siamo bloccati qua nel traffico. Non è possibile venire in montagna con le gomme estive. No, no, no. Non è possibile venire in montagna. Ma come piano piano ci passa? si Grazie a tutti.